ciao addio ragazzi chissà se qui cattacano a fare questo esperimento di un video in diretta se nemmeno, se nemmeno sbagliate adesso guardiamo se attacca avvenire la gente tra i nostri video in diretta è perché ragazzi qui è una bella e tricchia sguardo no, allora bisogna capire è perché avevano bisogno capire al bar perché né al bar né all'ustaria ormai in tegl'ustaria per fortuna non si può capire perché bisogna passare calmo nel tempo e poi sono contento perché prima avevano messaggi che dicono che c'è la gente che guardano dall'America che è bella dall'America, da tutta l'Europa i bologni che sono in giro per il mondo e che sentono a cercare i bologni sono contento perché si sentono un po' cacca però anche i bologni che stanno qui a Bologna, in Emilia, in Romagna hanno bisogno di sentire un po' a cercare l'Indialat perché ormai si sentono più poche bene, allora sai ragazzi in cui abbiamo preso una folla? no, in cui ci saranno in cui ci saranno, è una moce da fare, da leggere allora è un po' compagna di essere all'ustaria sì, se non c'è se non c'è, se non c'è se non c'è se non c'è un usteria se non c'è un usteria se non c'è perché non c'è anche il usteria però a Bologna ormai degli usteria e quali stieti ne sono più pochi perché una volta c'era l'ustaria per esempio della Mariena in San Flis ma io ho andato l'ultima volta quando c'era il mare l'ustel sarà 10 anni in dritto c'era dal burro però si respireva proprio l'atmosfera della Bologna nostrena della Bologna d'una volta la compagna di l'ustaria l'ustaria e il ghiottone l'ustaria e il ghiottone vuol dire che l'ustaria e il ghiottone era famosa perché i maniè venivano a tempo i maniè venivano a tempo che vuol dire che l'ustaria che era vecchia era mal messa avevano legato l'ustaria la tevla aveva una sbancata una sbancata e gli arriva l'ustaria che chiamava la ghiottone la margherita detta la ghiottone che era poi la moglie del ghiottone l'arriva con i fasi il brodo e il fasi la vedeva in costa le dente in questa sbancata la tevla e la gente sbuffava sbuffava e manièvano e avevano anche Daniel Vitelli dal Belgio salutate Daniela che vuoi essere il nostro amico buonais e loro sbuffavano e manièvano perché avevano 5 minuti e anche 5 minuti voleva maniare più che i bhiottone perché una volta era una bella fama, era una gran sguessa ma la sua vita questa volta che invece da ghiottone da ghiottone una volta era a Boulagna al circo sapete cosa è un circo al circo era il circo al circo e a Boulagna aveva scappato l'elefante e poi e poi al circo da ghiottone andavano in maniera spessata per i bambini perché al circo avevano guantone e gli hanno fatto una spessata d'elefante perché la ghiottone una volta era sempre e invece l'osteria dell'offesa di Dio in via dei Foscherari era famosa perché pensai che una volta era un cliente che mangiava sempre l'amnestra di Foscherari perché all'osteria si beveva la coca-cola si beveva la coca-cola si beveva la coca-cola ma io non più si beve la coca-cola e te si bevete Laura l'acqua, il succo te si bevete buona come buona beh ecco invece all'osteria l'offesa di Dio era un cliente che era che mangiava l'amnestra di Foscherari sai cosa c'era dentro l'amnestra di Foscherari? no una coca no una coca-cola una coca-cola e sai che coca aveva la coca? la coca come è la coca? l'acqua l'acqua di nero l'acqua di nero l'acqua di nero l'acqua di nero è un'acqua di nero un'acqua di nero e dicono la coca allora quando la coca andava dall'ostagi guarda bene che io in questo brodo l'amnestra di Foscherari aveva una coca-cola l'acqua di nero 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 e ora se voleva cattere la polla in tira insomma abbiamo preso l'igiene che adesso per fortuna che adesso c'è l'igiene perché quando abbiamo preso l'igiene vediamo cosa ci capita guardiamo i marchi due e certi più sassi vabbè insomma sai l'acqua di nero allora prendi l'acqua di nero per esempio ma sai che quando c'è da scarrere in dialetta mi hanno pensato per scarrere questa cosa per esempio questa terapeutica che è una poesia bellissima di Carlo Sgarzi ecco questa è quella una poesia un po' ironica e è fatta apposta quando la gente è di gran malà che è un po' accompagna al Sumare Csicaia o al cavale Csicaia sai cosa aveva il cavale Csicaia? aveva Tarsang sang da simile solo sotto la cu e anche le pizze del Sumare Csicaia o dal cavale Csicaia si dice quando proprio è una tariega la sangue per quel che è il casca cosa vuole dire una tariega? anche la tariega le oncle sang per di Malan perché? perché vengono dalla teriaca una panacea un medicinale che si preparava pensate fino all'inizio del Novecento all'archiginnaso Bologna fino dall'età dei Romani e ci mettevano dentro di tutto e mettevano dentro degli eli e palpastrelli la vepra perché i cassevano dentro la vepra perché i pinzevano a sé se la vepra è buona stare al mondo anche se la vepra parlano allora se la vepra vuoi mancare una vepra? no no ma ora se mancare vuoi? di turclin di turclin vabbè ma viva io ho perso pulite io ho perso pulite che c'hanno qui io mangio della roba buona presempi anche il tagliadel come Carlos Garzi se una signora ha l'anemia l'emicrania e il convulsione che ha nel don profusione il rimedio radicale da adottare con vari costrotti lì la cura e il tagliadel tagliadel con il persotto se una famiglia ha nel munito lì col soff e lì col grogno mentre tira per la via scura un'aria ed lì e poi per far venire l'umore più bella mi ti intervola e insia per tutto un bel caul con il tagliadel tagliadel con il persotto me adirev a chi scienziè dicendo che la delinquenza è un malanno che va curare come il tifo o il mel pensa per curare i crimineli e guarire i farabot beh chi ha trovato il tagliadel tagliadel con il persotto se me fosse un farmacista oh che udaro in farmacia che vedremmo mai pioveste che me genna darevi per la cura e tutti i mel più difficile e più brutto me darevi cosa? del tagliadel tagliadel con il persotto ecco anso brisa se questa quella prevesse un'idea per qui chi andrà a strugare la vaccinazione per questo brodo malano me darevi però anche la maniera del tagliadel adesso che vengono da stare che sarei qui o sarei in cortile anche a me magari un po' sì lì dire quella tutta questa sangue che guardano la sangue da Boulagna da Frera dall'America dal Belgio la sangue che non so e dietro che non so da Milano chi sa se la sangue da Milano ecco però quando va a casa e c'è la grande che gira i gira parla strano a me mi arriva a dire degli insulenti se avessi da tirare un verso a un cledrick al giro per dire bisogna che stagli qui se dire il seguente bisogna stare qui cosa dite? sì, bisogna stare qui ecco però c'è una poesia che è Gastone Vandelli un grandissimo poeta bolognese del secolo scorso della metà della seconda metà del novecento che si intitola proprio Insulence ecco al bulgnais è una lingua al bulgnais è una lingua una lingua una lingua una lingua in pericolo e bisogna tenere la carta che non ha capito che dice il bolognese una cosina una grezza no, il bulgnais è una lingua è una lingua che porta sigla la storia della nostra città anche la campagna ecco però il bulgnais si può fare ridere sigare o anche dire degli insulenti per non nessuno vamo là da Berghem ti imbotta ti imbotta ti imbotta e allora per dire degli insulenti che passano adesso a voi suggerimenti per esempio la poesia qui è Gastone e Vandelli provate ma in ero c'è la cosa che fanno a partire a Brescola no, anzi è Trisset alla fine del Trisset hai fatto la vita per colpa di Fonso che hai fatto in maniera un tri e svanendo ti stiamo facendo adesso stiamo facendo il tuo fratello che ti dice 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 che ci metti non te io non vediamo che ti dà della madosca, sarfujano, tempera radindevs di basurlone e zunni da maniera strampaleca fa venire la galaverna in ticuaione, ti un testa di manzo, un imbalzè, ma come si fa a esser la carota, tabalori, staios, accepocceri, ti un martoff, una tedia, un piparlotto e poi ti admeriti senza essere vituperi. Poi pian piano, fino a calmer e affonso che l'estava in me a guardare, andiamo funzionati al desso e più sbagliati, al tulletto e al tachè al mistero. Insomma, avete visto quando si stesse che roba che fa? L'erogante, l'erogante. Sì, no, avete voglia di cercare un po' di impugnare per leggere quel vuoto? Sì, sì, sì. Anche il mio problema. Cosa? Anche la flevia? No, 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 no Prendete, per esempio, un omaggio, un omaggio al grande Gijeng Livra, al nostro grande amico Nettuno d'oro, per me assi fuori dalla telecamera, mettiamo un po' più in sa, ecco, che stavolta al Stav Uet. Vamo là. Le una posì e Gijeng Livra, che la tetto al mi dialat. Vamo là. Sì, no, 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 no. Mi insegnano l'Italiano. I gij varen ragazza attenti perché ci scorrano l'Italiano da tutte le cape. E adesso, che pensa adesso? Sì, no, sicuro. E scorrano l'Italiano tutti gli uomini e la cultura. Però i popolani, i poveri scarponi, imporano sapere chi vi parola. Le sole al dialat, la lingua sull'uomo, clavin sull'uomo, clavin sull'uomo, clavin sull'uomo, clavin sull'uomo, clavin sull'uomo e l'uomo, e me l'occasione per ridere il segale per tutti la passione. E me, che sono nei principi dell'uomo, al bene, ma da buono, a scegliere come ci siamo. Allora, perché se vengo fuori e di via? Ho dovuto scordare e scordare di me? Boh! Se forse perché avessi da braver, a un soggetto che fa un incanere, non dovuto dire forbito, fetente, bigliaccio oppure simonito. Per questo, a sostenere... Sicuro! Scusa, scusami eh! Sicuro, mi arrivo da là, per fare un'altra frasera di mondi pesati. Spometti, bagai, tariega, malnati, sbagliare la ruffianca, vuoi fare dal pulpato! Per questo, a sostenere, e a decimo da buono, come sento con voi tutti in tiri tagliati. Però, in questo tempo, a voi diranno un quel, per dire qual che pensi sia brutto o sia bello. Per fare un capire da qui come me, per scrivere un quel, convinto di qui. Per pensare a ricordare dal mondo povero, per pensare a reclamare se io di diretto. Per fare un coraggio, se avessi al magone, per dire alla coca, a voi un gran ben. Per essere con gli amici, prendere un manino, per dire un bel socio malo, per fare dal casello. Per fare un prelengo la dichiarazione, almeno il più bello, le diremo trugnano. Le cose che mi ha pensato, cos'è un sanparmato? Ma io sono qui, che non è indialato! Eh ragazzi, non è indialato, non è indialato! Anche i cinni, per vedere che imparano il dialogo, bisogna scarrere sempre in dialogo. Perché se hanno scarrere con i cinni in dialogo, in bolognais, è impossibile che si mettono in opera e imparano il bolognais. Se avessi qualcosa, avevi qualcosa? Ha questo caffè di grande commento? Prof, dammi un segno! Ha, sono qui a tua festa! Eh sì! Se avessi qualcosa, su qualche giorno del bolognais, vediamo come essere l'ustarico, a fare del cacchier, a psiferia. Sì, sì! Eh, perché sennò noi andiamo a lungo l'estero a cercare la cacchier. E poi alla fine, se avessi, contando una folla, eh? Sì! Ma se, dai, prendere, a brisa prendere la letta, ma prendere la sanna per prepararsi la sanna. Sì, un aperitivo! Proprio che sì, un aperitivo! Con la folla! Proprio che sì! Beh, allora, se avessi, proprio prendere a lungo l'estero quel, mi alesserevo un'altra poesia di Gastone Vandelli. Va beh! Gastone Vandelli ha dedicato una poesia al Tosquigno, avendo a stare a sapere che una volta, a Bulagna, quando al bugnais l'erang, la lingua scorsa da tutta la zang, erano qui che erano in brisa bene a cercare in italiano, però si sforzavano, provavano a cercare in italiano e avevano di più faccio un don di strambocci che non saltevano neanche i cavalli. Per esempio, questi qui, che Gastone Vandelli, avevano che Pietro Coccianci da Milano si fortunati che hanno preso le belle passei. Salutevi Piren! Addio! Addio Coccianci! Addio Piren! Addio Piren dalla Lombardia! Ecco, una storia strana, quando la baccaia la dice, i parpadlini, che venghi qui, che guardi, squasadino, scadore, tirabusone, lo smalvino, ciribiggoli, pizza, sburziglini, e poi, prilone, strizzo, gomisello, mostrighino, sgadizza, bassurlone, ratatuglia, stiatini, smataflone, sei un zavaglio, pacciugo, trabadello. La dice che il bolognese non fa fino, che se c'è lì la roba da maichetti, insomma, un saccarer da poveretti che in ambrisa come lì un bel sitarino. A Rodalebra facendo la traduzione la dice, tomelata e sgaravlare, hai la barusla, filucca, scudozzare, e al venta bordigone al bordigan. Adesso la siamo messi a dire, ok, scordando di sdesser nedent la fondata, la credesero alla moda, sta poverata, e con l'inglese hai pere di vivere mai. Sommare, un bambiavlaz, un lardarol, la trovè una murata in Santisi, e ogni tanto al scappavì con lì prar sureres della spausa e del sognol. Moletterde, con il tono della spausa che la squire della trasca, con l'argoio faes, all'amore alla dett, in bambugnais. Me ha scavato al cudroz, brotta schivauza! E poi distenct, scurant come Boulagna e senza più traduzere in italian, l'azont come se lei desse un smataflone. «Vocca, squincia, sangate la caragna!» Ho sentito a dire di grande massa, ma ho sentito Boulagna e il tiro, e beh, il tiro, al tir, al vengo dal Boulagnais al tir, il tiro, per averlo, perché una volta si tirava una corda, e noi non avevamo visto quanto, e neanche in so quanti cadavano tra qui, anche a Boulagna. Ho fatto un po' di storia. Ah, bisogna fare una storia. Il tiro, il tiro, qui, si trova sempre delle parole per te, ma la Flevia, ti ho detto, David, la Flevia, la sembra di fare un cuore. Eh, come fai a fare la Flevia? Hai visto la Flevia? No, no. Non è così, ragazzi. Non è così. Non è così. Ecco, ogni giorno, la gente pensa che al Boulagnais si sa l'italiano di Bologna. è solo in Francia. L'italiano di Bologna. L'italiano di Bologna. L'italiano di Bologna. Se mi ha detto il tiro, o se mi ha detto una pizza, mi sembra di essere a fare un Boulagnais. No. Mi sembra di essere a fare un italiano di Bologna. C'è un'altra cosa. Allora, se Boulagna si parla al Bolognais, anche se avviene l'italiano di Bologna, non sarebbe più la nostra Boulagna, la perdere tutta la sua alma, la perdere la sua storia, un pezzo grandissimo dal nostro modo di fare, dalla nostra cultura, l'anderebbe a Tarsac. E come se a Boulagna si credeva il dottor, o se si credeva la città e la città, o se invece che tutti i porti antichi fossero di gran palazzo, e si manca per me. E sarebbe più facile da tenere dritto, perché non è più facile da tenere dritto alla roba vecchia, alla roba antica. Però sarebbe più brutta. Eh, sì. E come se a Boulagna in ciò ci cresce più in Bolognais, la città più anonima, e mancarebbe quella con la bursa in Boulagnais, vero? Eh, eh. Ti fai dire per qua che voi avete una scura brisa in Boulagnais. Eh. Ma allora adesso ci vediamo. A voi freghe. A voi freghe. Aveva del manco di ragazzi il rusco proprio a sé, Aurelio, il rusco. Il rusco, il secchiaio, il stier. Eh, eh, eh. A 5, come fiola, che ha saluto. Vamo là, ragazzina. Addio. Addio, addio. Addio a tutti. Davide legno con il fiola al corso, al ponte della bionda, perché speriamo che passi tutte queste momenti che bisogna tornare a fare i corsi di Boulagnais perché ogni ora se Boulagnais è la maniera mia ora per imparare il nostro dialogo, la nostra lingua perché è una lingua locale. Hai proprio ragione. Bisogna quella lettera? Chi è? Chi è che viene che viene preso da Boulagna o che viene da fuori a via? Che viene da degli altri aperti? Chissà. In vatta, in vatta sopra. Marcello Verrocchio. Se Marcello viene... Marcello d'induvi pure a Bruxelles si ha marco con l'idea la mila quanta gente. Sì, a Bavarquer ragazzi, calmante si guarda perché a me mi amico la puigla in bocca. Dice si puigla una malattia delle galline pensavo che aveva una specie di una targante di una patina un teso in vatta la lingua e si attacchava la lingua in bocca e non aveva in più mani che i muri. Oh che bravo! Anche a me a fuori a scara bisogna che la sdora la portasse in stanza scalfata e venga. Chi è la sdora? bisogna fare un verso dopo quando vengono con tutti gli amici sono sicuro che il sdora e la gioia vedono l'ora di tornare a scara l'ora? l'ora? avete voglia? vuoi tornare a scuola? no no è un po' che si però manca un po' di niente si un po' di niente c'è il disegno per i amici il maestro insomma come si fa? adesso bisogna stare qui così che bisogna studiare qui beh Catalunia hai un caso guarda dalla Catalunia in Spagna Barcellona Tesa Barcellona dal Friuli sotto andando all'Oceano dell'acqua grande pizzo del cavallo Skaia proprio lì la pista d'Eina fai andare la sposa Pietro non mi piace ma ragazzi la sposa la sposa l'acqua fa da maniera forse me da nerbi i piselli i larvaia sono anche a me allora a prendere le lettere per partire in temps tutta stanza anche in quel che in San Safer tutta l'idea allora aspettano chissà se arriva qui c'è lì invece adesso a me viva 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 e poi è anche la migliore eh sì viva 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 ecco all'Israe vive viva e Giuseppe Barigassi è una sirudella dal melo e otto santa per inserire quanto la sirudella dice si sirudella chi è la sirudella definisce si sirudella componimento in ottonari in rima baciata ed inizia sempre con la parola sirudella e deve finire con il verso tocchè dai la sirudella o ticutai la sirudella ticchettac la sirudella eccetera sirudella in generell premma e centra il tagliadell prampagers passal du taur asimba vundit dal miaur ora andiamo a andare in ticun vento da chi pover penitente che in sang mi dicerai bovni dell'acqua ha disonai ci penso l'anma d'un zener dove concessla in tal maniera o in tal bovni dell'acqua frasca o della berra alla tudasca a me la berra però non pesa perchè non è la sangue o della berra alla tudasca dicono la guzzoveglia la succede con la botella quando si va un bambicchirot ha smettuto intonfagotto sgrazi debiti tristpinsir e non si pensa che è al bichir a chi dice l'acqua lampiesse ha rispondo godivla in pes mu encardessi e feri soci e speran castedi i nostri Gimbanso satanadell smandat l'acqua dal canel al du taur cal steng al mont o dal vent al più stupante da qui dunca capire che quando l'acqua non si fa il grig che deve essere vent e ben si vuole vivere da cristiani viva dunca quel bel sit dove non ha piantato la vita viva Bach al dio dal vent viva l'acqua primulente viva l'acqua che non si fiume viva qui chi ha il costo non ha misder mai l'acqua al vent viva il niger quando le feng viva i mestri e i dilettanti che hanno la dosa per il vent viva tutti qui della bevrera viva l'acqua in la riserva viva l'arra che le po' il champagne viva l'acqua viva l'acqua per la campagna viva tutti i magazini e le bottiglie e le bottiglie e le bottiglie e le bottiglie il sugo che mette il grig anche il caffè al Crest d'Aipì e poi viva la cantenna bot, buggenne e salvavenne calastrenne e calastrut bigunzette e bariluz e ti nas e ti naseng e poi sempre viva al veng vivat cor mzette e vasel tromb, biron e buvinel e i cuccon e la canella to che dai la firudella Giorgio Serra oh matitaccia ho visto Facebook Giorgio ho visto Facebook che ti imparano però l'ha fatto un bel cagno l'ha fatto al mare l'ha messo al mare per te e l'ha fatto la fotografia e non ha fatto il mare l'occhio è un drega a fare i segni ai per propri d'essere al mare ah beh però ho da dire che anche a Bulagna in cui è un'aria regna caldana poi il sole caldana se sta pulitana sta bella sentita e rinflazione alla primavera questa è la manca corte ah ma non è questa è l'ora se sta l'ora bisogna mettere bisogna mettere il pane ma è vero su un po' se c'è questa che guardano l'acqua la fa la rosa non so l'acqua la fa la rosa bov dal vento e lascia l'acqua per il mulet adesso però bisogna capire la roba qui perchè il percorso che sanno in barri a gutta che sanno qui che caggiano con la zanna che andano a bavere il sole dal vento però ho staccato a stare in cà allora bisogna stare in cà bisogna bruciare fuori bruciare il massacruc bruciare il massacruc bruciare il massacruc bruciare il massacruc bruciare fuori chi è il dreg il dreg il dreg il dreg il dreg allora prendere una folla prendere una folla che la qualla presenta più una folla che ne ha preso in tal liberla la folla la folla che folla contagna? di tuc di tuc e di una dreg le dimondi bella eh le bellissime le bellissime le curte che siamo strassati in brisi su noi moris moris da mancva da l'elta mancvena le dreg che sguerda andiamo là anche il dreg che c'è il dreg che c'è il dreg che c'è ma chissà e il dreg che sguerda ecco avete dovuto sapere che una volta io ero in una casa di tuc e di una dreg allora i tuc i tuc e i tuc e i tuc e i tuc eh eh grazie grazie di un dreg grazie di un dreg i papi ah noi non sappiamo cosa da so merdervela già anche se la sdauro è contenta bene stasera il dreg che c'è allora a ieri una volta di tuc e di una dreg che stavano in una casa di un dreg sai che i tuc che i tuc viene sempre a dire a torri in giro in un dreg eh sì perché i tuc sgegni vediamo scegni 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 Allora, una volta, una volta, una volta, una volta, una volta, la partita che mi piaceva il mondo. Allora, sapete se non è vero, si mette le un dè e si dicevi cosa vuoi fare. Adesso tiriamo in un luvat, li attiriamo in una trappola, ha luvat la trappola. Allora, sapete, andiamo in una mattina e dicevi, ascoltate ragazzi, noi siamo qui, in un cortile, ma non vanno mai vestiti al mondo. Invece a me piaceva andare al mondo, perché è di più grande vicino da andare, del culino, delle montagne, del mare, non vanno mai vestiti al mare, siamo qui in la base, in campagna, non ne ho mai niente. Allora, cosa direi se vuoi andare a fare un bel giro? Allora, tutti i taccennapiti sono dicono che in Adrena è quasi ragione perché andessimo a fare un bel giro per il mondo. Allora, si organizzano i taccennapiti e i vanno in giro per il mondo. I vanno in giro e si vanno, si vanno in giro per il mondo. I vanno dal fiume, dal fiume, dal bosco, dal castello. I vanno dalla montagna, passano dal culino. Poi, finalmente arrivi, dove? In un bel pre, l'erba, c'era in tal pre. A dire un bel giro, a dire l'erba, a dire i fiori. I fiori, l'erba varia, una bella arbena che si stava pulendo, un'aria reina come quella che c'è in cu, un'aria reina proprio da naser da stare qui al Vardegno. Finito, no? L'arriva da essere, forse era una pausa, Paolo Passarini, forse si era fermeunato, ma adesso l'arriva da andare. Ma i più prefetti, nader, con tu che, non si vanno più niente. Ah, sei in campagna. Chissà. E l'acqua l'andava sempre più su, e un terzo punto, tutti i morsi hanno ghi. Ha! Ogni brisa lieto fine, l'hanno brisa una folla a sé, però le andè a finire a sé, e tutti capendo che, hanno bisogno a brisa fare i sui mar, con chi è. Chissà, ha sbagliato bene adesso. No, adesso dice a sé che ha sbagliato pure l'idea. Ah, sì, bene. Allora ragazzi, a Srammei, vedi che il Perax è che anche la sorta, la sua padri a tirerse in un luvat, a tirerse in Cali, Monica, Vittorio, quanti anni, da tutti i bambini, da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo, vamo là. Ah, è lì. Fin'anno, con un'altra povesia, ecco, vedi a stare a sapere che, al Bugnais, al Nebrisa ha fatto solo per sgarnezzare, per dire del Bugnais. l'è una lingua, a Tarzan, Santa Greta, l'è una lingua che può essere a due per scarrere qui romantiche, per fare a un preliminare la dichiarazione, come dice in un libro, per tirerse di nuova, per scarrere, per scarrere qui seri, anche per tradurre il Vangelo. come dice in un libro, aveva tradotto il Vangelo, che aveva messo fuori, al prezzo che fanno bene per tradurre. Dì cosa? Ecco, Laura, Silvano Rocca l'è l'era, perché è neppio un poeta fenomenale in Bugnais. Fe-no-me-ne-l. Sì, è proprio un spettacolo, e l'ha scritto del povesì romantiche, compagna questa qui, Aiedisit. Aiedisit, dove il ca, egli è in carsoa che se avsegni, che il pere dentro in una scatola da scherp, i murbisi e indria stiuper, una curana ed ladra larvoia e il crep, che il fang sang per più fondi, e il radice di alberi c'èr che in la strada prenderà in fondo, dove la terra l'avanza, onda e tandra, anche in tide stoff di l'estè. Eppur, dentro del ca, ha iè di fiei celti, di sentimenti, di armur, omen e don che si scurri, l'udore d'arragò a pannafat, agnulere d'un gato, e lavose a ragaiere d'una radio, che inconga la smurcè, e poi, ed not, in silenzio, ha sredito e ha sfalamauro. Bello, eh? Questo è drammatizzato al momento romantico, eh, 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 e sfilzano bene gli uccelli in tutta notte. Sì, a me sono quei che provano a fare la romantica, che provano a sentire, che con il Boulgnei si dice anche di quel seri, guarda qui, e fanno, in breve vanno, e cosa si fa? Però adesso io ci, tutti in te. Ah! Bene, vamo là, guardando da tutta Boulgne, da tutta Boulgne, da tutta Boulgne, a vivere degli etri di manco, da ferro, oppure la piantagna qui. Alla prendo smettare, se ci vuoi essere, eh, la smittagna, la smittagna, però, invece che avevamo fatto un quel da fermo muovere un po', a prendo con te una barzlatta, se ci vuoi, in Boulgnei, come? 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 Come la volta là che aveva una vecchia, ma una vecchia di ben vecchia, una faccia in quali vecchi, 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 vecchi. 90 anni, sì. E' la mia, la mia nascita, la vecchia che era girata tutta così, mi è messa, allora era seduto in una pultronata vecchia, una pultronata vecchia tutta mi è messa, tutta sbrindale, ora, in calmentare che lì, aveva seduto a fianco lì, il suo gatto, vecchia, un gatto, vecchia, tutto nel messo, tutto sbrindale, allora arriva che gli passa per lì, una fateina. Gli passa una fateina che gli diceva, eh, bella faccina, scolti, vedi perché che mi ha fai a vincere cosa vuoi essere su quanto desideri? Allora la vecchia sta a dire, boh, te, una fateina, e dovresti fare a vincere realtà che mi desideri, ma che fateina? Al fateina non esiste in brisa. E lì la dice, no, no, te, dà mamma a me, adesso proviamo a dire al primo desiderio che vuoi essere. Allora la vecchia sta a dire, scolta, vedi te che la pultronata, la pultrana vecchia tutta sbrindale, tutta sbrindale, tutta sbrindale, ecco, proviamo bene a fare in maniera che la pultronata lì ha avvenuto una pultrana nuova, nuova, tutta l'ostra, tutta messa puli dentro. La fateina la dice, bemmo, in cosa qui? So anche a me, le sbagliate queste roba da niente, tac, la fa così, la pultronata vecchia ha avvenuto una pultrana nuova, bella, tutta l'ostra. La vecchia la dice, sai che forse la fateina è proprio una fateina? Ora le penso un po' che le dice, scolta ragazzella, vedi te che mi sono una vecchia, me la messa io di gran finestra, sono tutta un po' insieme. Preccio di me a fare un vintero, una bella stornella, una ragazzina sorgna, esdotante, tutta in forma, blegna, ecco un sprucchione proprio. e la fateina la dice, bemmo, sono anche a me, le ho nato. La fa così, bemmo, che la faccia tutta la vecchia, brotta, me la messa, poverina, l'avvento, una ragazzina sorgna, tutta in forma, tutta... Allora la faccina, lei pensa un po' che le dice, scolta ragazzina, vedete che il gatto è tutto nel mezzo, che il brot gatto è tutto il sparnacello? Scolta, presto di me a fare il vintero un bel susanello di vento con due spalle? Allora la fateina, lei pensa un po' che dice, bemmo, sono anche a me, tac, ben che il brot gatto è vecchio, nel mezzo, tutto il sparnacello, vinta un susanello di vento con due spalle. La susanella, apprende verso la faccia, che la può diventare una ragazzina in una zona, le dice, ragazzina, e adesso come faccio? Ti ho fatto castrare? Hai visto il capito? No. Bene, meglio che sia. Ragazzina, salutiamo, abbiamo voglia di ridere, bisogna, bisogna, siamo alla pungella, Dalla pungella, da tutte le miglia Romagna, dalla provincia di Boulagna, dalla Lombardia, dall'Europa, dall'America, dappertutto fuori via. Ragazzina, bisogna castare in questo, bisogna stare in questo, perché queste momenti il brot passerà. E poi proviamo a trovare queste momenti per fare quelle lettere, per esempio, per stare vicino, saranno vicino, per fare del video a me, a spostare con il telefono, per leggere di Bliber, perché quando sei andato a lavorare, a fare la spesa, e qui e là, sempre in Girondelle, la sua fadiga a leggere qualche magari a rinvole a leggere. Grazie ragazzi, grazie per essere qui con noi, salutiamo di qui ragazzi. Ciao, andiamo avanti con il fuoco. Sì, sì, sì. Sì, sì. Dite? Andiamo a lungo? Beh, di volte non voglio dire la verità, perché voglio dire il suo papà, siamo qui che vanno a fare la maniera, però, oh, è una scruzione, è una mossa. Eh? Vamo là! Nien botta ragazzi! Bisogna tenere botta! Viva Bulania! Viva l'Emilia! Viva la Rumania! Viva l'Italia! L'Europa! Tutto il mondo in tir! E tenere botta! Stiamo bene! Ciao! Addio a tutti! Addio! Ciao! Ciao!